La Iposea Udas conquista la semipinale play-off per la B2. Al palladileo di Cirignola, i biancazzuri di Roberto Ferraro bartono a termine di 2 ore e 45 minuti di battaglia il matervolle di Castellana, già affrontato in Coppa Puglia per 3-1. Che gli ospiti avessero voglia di riscattarsi era chiaro sin dall'inizio, tant'è che dopo il primo set vinto dai biancazzuri locali per 25-12, nel secondo prendono coraggio ed approfittando degli errori avversari chiudono 25-15. L'Iposea parte arrembante nel terzo set e vogliosa di riscatto, anche se gli ospiti non cedono ed anzi tirano fuori gli artigli per cercare di solvertire il pronostico, ma l'Iposea vince 25-22 e va sul 2-1. Quarto set da adrenalina pura e si lotta su ogni punto. Il finale trilling premia i padroni di casa meritatamente ed affronteranno mercoledì prossimo il Martano.